Al colloquio di lavoro i selezionatori non sono tutti uguali, ci sono selezionatori che desiderano mettere a proprio agio i candidati per dargli la possibilità di performare al meglio, cazzo com'è ovvio che sia, ed altri invece che vogliono subito mettere pressione per testare e valutare un pochino di che pasta è fatta la persona che stanno colloquiando. Ed è proprio a questo secondo tipo di recruiter che con il video di oggi proveremo ad andare in culo. Io sono Valerio Villani e vi do il bentornato sul mio canale in questo nuovo video per la rubrica Colloquio Facile, la rubrica interamente dedicata al colloquio di lavoro. L'obiettivo del video di oggi è molto semplice, andremo a vedere insieme quali sono le domande più infami che purtroppo i selezionatori ci fanno spessissimo al colloquio di lavoro e come gestirle da professionista. Vi ricordo che tutte queste domande sono estrapolate dal listone delle domande che ho preparato per voi e che potete ottenere gratuitamente iscrivendovi alla newsletter Civilizzazione e accedendo alla prova gratuita della Career Academy. Trovate tutte le info in descrizione, insieme con la playlist dedicata al colloquio di lavoro che abbiamo già sviluppato qui sul canale YouTube. Dunque direi di non induggiare oltre e di procedere con questo listone di domande veramente infami. Prima domanda, ok, mi devo confessare, questa è una domanda che io facevo sempre ad ogni colloquio perché la reputavo, sebbene fosse difficile ed infame, una delle più complete per valutare un candidato. Ve la simulo proprio come se fossi al colloquio. La prima parte era, allora candidato che stai guardando questo video, dato un'occhiata al tuo CV e ti devo fare i complimenti. Veramente un ottimo CV, un ottimo percorso. Vorrei subito rompere il ghiaccio con una domandina a bruciapelo sulla posizione per confrontarci un po' e vedere se fa il caso tuo. Quali sono, secondo te, i tre requisiti, le tre competenze fondamentali che deve avere il profilo che stiamo cercando per ricoprire questa posizione lavorativa. Una volta che il candidato partiva con l'elencare, le skills, che dovesse avere il profilo ideale e quindi partiva con tutto il suo ragionamento, quando terminava iniziava la seconda parte della domanda che era generalmente quella che metteva più in difficoltà. E cioè, ottimo, allora facciamo così. Fornisci un esempio in cui hai messo in pratica, professionalmente o durante il tuo percorso accademico, ognuna di queste tre caratteristiche che secondo te sono fondamentali per ricoprire al meglio questo ruolo. Lo so, raga, la morte. Questa domanda era veramente la morte. Però era utilissima per i reclutori perché non solo mi permetteva di valutare come il candidato reagiva sotto condizioni di forte stress ad una domanda che magari non si aspettava, e in secondo momento proprio i contenuti. Cioè, se era capace di individuare e di fornirmi degli esempi pratici alle skills che lui stesso aveva detto essere fondamentali per svolgere questa posizione. Per la risposta, invece, lo storytelling, il modo in cui racconteremo queste cose, è fondamentale. Così come vi ho mostrato la domanda, la risposta è un pochino più complicata e in merito a questo vi annuncio che dal 18 settembre ci saranno novità importantissime per quanto riguarda l'evoluzione di questo progetto che stiamo costruendo insieme su YouTube. Ho concordato questa data con il team. Nei prossimi video avrete aggiornamenti più precisi e più puntuali su quello di cui vi sto parlando in questo momento. Ma la cosa che dovete sapere che vi interessa se state guardando questo video è che ci sarà una sezione interamente dedicata alle risposte al colloquio di lavoro nelle quali io simulerò di essere un candidato e quindi vi farò vedere proprio cosa intendo e come risponderei ad ognuna delle domande del listone. Quindi una cosa dal valore estremo. Procedendo con le domande più odiose che soltanto le menti e i recruiter più infami possono performare c'è una domanda che secondo me è la più difficile in assoluto. E cioè raccontami di un tuo fallimento. Parlare dei nostri fallimenti. È complicata perché a questa domanda non esiste risposta corretta e non esiste nemmeno risposta sbagliata. Dipende tutto dal nostro storytelling. Cioè dalla nostra capacità di mettere in piedi una storia funzionante e che rispetta i requisiti delle domande comportamentali che abbiamo già visto ogni tanto nel corso dei nostri contenuti. I requisiti da rispettare sono la metodologia STAR Situation, Task, Action, Results. Per approfondimenti su questa metodologia vi invito a consultare il video che vi lascio qui sopra. E l'obiettivo nostro è quindi utilizzare questa metodologia per raccontare una storia convincente e soprattutto per dimostrare quello che abbiamo imparato dal nostro fallimento. Al che voi probabilmente vi chiederete Valerio ma a cosa cazzo serve questa domanda? Raga, la fanno i reclutere. Ovviamente una domanda inutile. Serve soltanto a mettere pressione e a vedere un attimino noi come reagiamo sotto pressione. Magari parlando di una cosa che ci tocca particolarmente come il fallimento. La terza domanda raga la metto al centro del video perché deve essere il nucleo di questo contenuto di oggi perché io particolarmente la odio. È una domanda infamissima ma è anche una domanda che ci faranno praticamente ad ogni colloquio e ho riscontrato nelle preparazioni professionali al colloquio che svolgo che è una domanda sulla quale moltissime persone crollano. Ed è. Allora candidato che stai guardando questo video mi hai raccontato un po' il tuo percorso molto interessante. ti vorrei chiedere come mai secondo te dovremmo assumere te? Cioè cosa hai in più rispetto agli altri candidati che stiamo colloquando? Raga, è una merda, l'avete sentita? L'ipocrisia e la pressione che vi ho lanciato addosso mentre vi ho posto questa domanda? Ok, è un trabocchetto. Non andiamo su competenze tecniche, eludiamola, andiamo soltanto verso le nostre motivazioni. Come dico sempre la motivazione è l'elemento più importante in un iter selettivo e nel momento in cui il recruiter ci fa questa domanda e noi anziché elencare il nostro percorso, le nostre competenze andiamo diretti sul fatto che noi abbiamo fortissime motivazioni per la posizione lo spiazziamo completamente. Quindi elenchiamo le nostre motivazioni specifiche e vi assicuro che faremo goal. Per lo storytelling vi rimando sempre al 18 settembre. Mi raccomando, iscrivetevi al newsletter, attivate la campanellina su questo canale e restate sintonizzati. Andando avanti con questa lista delle domande più infami che i recruiter ci fanno al colloquio c'è una che come la seconda domanda che abbiamo analizzato va nella parte delle domande comportamentali che trovate ben sviluppate all'interno del listone. E la domanda è Raccontami di una volta in cui eri in disaccordo con il tuo capo o con un tuo collega e quale attività hai svolto per recuperare l'attrito. Raga, a questo punto vi devo dare un lead, una spifferata fondamentale perché fa parte di tutto quello che è il retroscena colloquio. È imminente un video in uscita su questo canale proprio su come recruiter approccia il colloquio quindi tutto il background e il dietro le quinte. Per quanto riguarda questo lead specifico noi sappiamo che il colloquio di lavoro ce lo possono fare tre persone. Ed Hunter, quindi selezionatore esterno all'azienda che poi ci dovrà assumere. Recruiter, quindi selezionatore interno. Oppure hiring manager e imprenditore, quindi il proprietario dell'azienda. Quando parliamo all'interno di un colloquio della nostra relazione interna all'azienda in cui stiamo lavorando, ok? È chiaro? L'head hunter, cioè quello che svolge le selezioni per un'azienda non sua ha tutto l'interesse che noi vogliamo scappare dall'azienda in cui siamo. Ok? Quindi se parliamo di una relazione difficile con un nostro capo, con i nostri colleghi per lui è ottimo, è tutta carne al cuocere, ok? Per quanto riguarda invece il recruiter interno ogni volta che noi parliamo male dell'azienda in cui stiamo lavorando e del nostro capo sono red flag. Quindi eliminiamole dal discorso con il recruiter interno. Ok? Spero che questo sia chiaro perché cambia tantissimo la percezione di noi ad un colloquio di lavoro. Ma comunque approfondiremo tutto in un video dedicato sul dietro le quinte anche sulle frasi famose, come le faremo sapere e tutto il resto. Cioè cosa significano veramente. Siamo all'ultima domanda ed è quella che personalmente mi piace di più in assoluto perché è una grandissima opportunità anche se è molto molto infame. E la domanda è quali sono le cose che ti piacciono di meno della nostra azienda? O il prodotto che ti piace di meno? Se rispondiamo bene a questa domanda abbiamo la possibilità di dimostrare che abbiamo studiato l'azienda, sappiamo di cosa stiamo parlando e abbiamo anche dei consigli utili ed importanti per risolvere quelle che secondo noi sono delle problematiche che noi dall'esterno abbiamo visto nell'azienda. Tenete presente che questa domanda non ha particolari sotterfuggi, è posta in maniera genuina perché molto spesso le aziende con le quali facciamo i colloqui per loro noi siamo anche potenziali clienti, quindi l'azienda utilizza il colloquio anche per delle analisi di mercato. Vi faccio un esempio, c'era un periodo in cui TikTok era in lancio in Italia e aveva aperte tantissime posizioni, faceva tantissimi step, tantissimi step dell'iter di selezione, proprio per fare un po' di analisi di mercato gratuita. Quindi è una pratica molto diffusa fare questa domanda. Quindi per rispondere in maniera efficace studiamo l'azienda, studiamo i loro prodotti, individuiamo quelle che possono essere due o tre cose che secondo noi l'azienda potrebbe fare meglio, sia magari in termini di comunicazione, sia per il loro sito, insomma individuiamo due o tre cose e gliele andiamo a dire all'interno del colloquio utilizzando il nostro straordinario storytelling e dimostrando che siamo preparati. Raga, queste erano per me le cinque domande più infami ed odiose che i recruiter fanno purtroppo ormai ad ogni colloquio. Fatemi sapere nei commenti se c'è anche qualche altra domanda che vi manda in difficoltà e in che modo magari possiamo lavorarci insieme, in che modo possiamo gestirla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like per sostenere la creazione di contenuti. Mi raccomando, il gruppo Telegram, Newsletter e tutte le risorse le trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Il 18 settembre ci sarà una cosa particolarmente figa ma vi darò ulteriori info nel corso dei prossimi contenuti e per il video di oggi è tutto. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima!